Mercoledì 27 luglio alle ore 11 sarà trasmessa in diretta su questa emittente la Santa Messa dalla Cattedrale di San Pantaleone in occasione dei festeggiamenti patronali a Vallo della Lucania. 7. Scelze edizioni televisive In collaborazione con Centro Elaborazioni Dati Lisi Servizi per le aziende, micro, piccole, medie e grandi imprese in via nazionale a Vallo Scalo. Mario, la macelleria con i salumi a 5 stelle dal 1993 in via Francesco Cammarota a Vallo della Lucania. Elettrosuono Pellegrino, televisori, hi-fi, elettrodomestici e telefonia le migliori marche a prezzi vantaggiosi in via Stefano Passero a Vallo della Lucania.